Non si placano le polemiche sul servizio di risoccorso in Sardegna, oggetto di un bando da 93 milioni di euro che ha visto nei giorni scorsi la presentazione di tre offerte da parte di altre tante aziende specializzate. Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale stamattina, nel corso di una conferenza stampa, attraverso le parole di Uo Capellacci e dei consiglieri Stefano Tunis, Mariano Conti ed Edoardo Tocco, ha chiesto all'assessore della Sanità Luigi Arro di ritirare il bando in autotutela e di mettersi. Al centro delle polemiche, anche la copertura del territorio regionale è possibile con tre basi e tre elicotteri. Secondo l'opposizione, con il modello previsto dal bando attuale, si copre solo l'84% del territorio regionale, mentre la proposta di Forza Italia con due basi riusciva a coprire il 94% della Sardegna, con costi per otto anni tra i 56 e i 64 milioni di euro, IVA inclusa, con un risparmio dai 21 e 37 milioni rispetto al bando attuale. Per Capellacci il modello scelto dall'attuale giunta è più costoso perché individuare le basi negli aeroporti significa pagare ogni anno 800 mila euro alle società di gestione, mentre realizzare nuove basi costa circa 600 mila euro. Inoltre, continua Capellacci, le basi c'erano già una a Monastir, l'altra a Dardara. A questo modello poteva essere aggiunto un elicottero che poteva operare nei mesi estivi per la zona centro-orientale della Sardegna. Per ammissione dello stesso assessore, conclude Capellacci, determinate zone vengono raggiunte solo in mezz'ora, oltre il limite di 20 minuti previsto dalla legge. Inoltre, il gruppo di Forza Italia ha espresso scetticismo sul fatto che si possa avviare il servizio entro gennaio, visto che manca sia la sistemazione che la messa a norma da parte dell'ENAC e delle eli superficie ospedaliere.